Benvenuti amici di smartworld.it, eccoci giunti al quotidiano appuntamento con i due minuti anche questo mercoledì 4 agosto. Iniziamo segnalandovi una nuova beta di OSX El Capitan, beta nella quale erano nascosti degli indizi anche sul possibile, a questo punto sempre più probabile, futuro, i Mac da 21,5 pollici 4K. E sempre rimanendo in tema Apple, se pensavate che i Mac fossero sicuri e a prova di virus dovrete ripensarci perché ne è stato trovato uno davvero molto terribile. Un brevetto poi per il visore di Google Magic Leap svela che l'azienda continua ad essere intenzionata a spingere molto in questa direzione, direzione quella della realtà virtuale che diciamo è stata avviata con il lancio di cardboard dello scorso anno e che appunto Google sembra intenzionata a perseguire. Google Auto è il nome dell'azienda che produce l'auto di Google, le auto che si guidano da sole, nessuna concorrente per Fiat e compagnia bella ma insomma è già un primo inizio. Voi la guidereste una Google Auto? Ditecelo nei commenti. Parlando di cose un attimino più stupide, un accessorio da 10.000 dollari per rendere Apple Watch meno brutto, della serie proprio chi ha veramente quattrini da buttare via ma forse nemmeno quelli. Parlando sempre di Apple, in America Apple continua a rosicchiare quote di mercato ad Android secondo gli ultimi dati con score. Abbiamo proprio parlato di Eddiston che è praticamente il rivale made in Google degli iBeacon di Apple. Abbiamo anche spiegato che cosa sono questi Beacon dei quali magari avete sentito parlare ma che in Italia effettivamente non sono troppo diffusi. Sempre parlando di probabilità, Apple potrebbe diventare un operatore virtuale e non solo in America, parliamo anche in Europa. Quindi in futuro potreste avere un telefonino Android con operatore Apple, la cosa effettivamente suona un po' strana e le battute si sprecano. Aggiornamento ad Android 5.1 per HTC One M9 con changelog piuttosto succinto. In Cina sono stati venduti 30.000 OnePlus 2, in 64 secondi non c'erano gli inviti. Inviti che a livello internazionale un fan un po' frustrato ha trovato il modo diciamo di hackerare per risalire la classifica degli inviti di OnePlus. Sono poi usciti i dati sulla distribuzione Android di agosto dopo che erano saltati a luglio. Sostanzialmente KitKat mantiene la quota di netta maggioranza praticamente al pari con Jelly Bean, Lollipop è più o meno alla metà rispetto a questi due. È uscito poi Chrome Beta 45 con i custom tabs che sono stati presentati all'ultimo Google I.O. e infine vi segnaliamo un nuovo Humble Mobile Bundle che in questo momento offre 9 giochi a meno di 4 euro se volete donare la cifra media. Ma vi ricordo che come sempre è un sistema di beneficenza. Per oggi è tutto, un saluto da Nicola Ligas.